Signor Stallone, anche quest'anno ha trionfato Olio Capitale, cosa c'è dietro questo successo? Sicuramente un impegno, oserei dire, maniacale del mio equip, che è composto dai miei due figli che insieme alla mia persona compongono il nome Le Tre Colonne, anche quello è il motivo per cui abbiamo dato questo nome. Per quanto riguarda il successo, devo ringraziare soprattutto Madre Nature che ci ha dato una varietà di olive che ci sta dando molto, parlo della coratina. Era una varietà che da molto tempo veniva abistrattata, usata solo come oliva da taglio, come oliva da taglio. Per quanto riguarda l'impurezza, è sempre stata una grossa scommessa che ho voluto affrontare e il tempo mi ha dato ragione. Fare la coratina, che è una massima espressione di un alto numero di polifenoli, di sensazioni olfattive, di freschezza e di gusto nel poter elaborare anche determinati piatti, è stata la chiave di volta nell'avere l'apprezzamento di quelli che sono i consumatori più attenti.